Nel corso dell'ultima riunione del direttivo del PD a Comiso, all'unanimità, è stato riconfermato Giuseppe Di Giacomo come candidato alle prossime elezioni regionali. Per il segretario di circolo Biagio Tarento, la città di Comiso in questi anni è stata ben rappresentata all'Ars, da chi ha sempre curato e difeso gli interessi della comunità locale, ma anche dell'intera provincia di Ragusi. È quindi importante che sia stata accorta la mia proposta di ricandidare Di Giacomo, l'esponente di spicco del PD, il quale ha dimostrato di essere politicamente affidabile durante la sua lunga e prestigiosa carriera politica, prima come sindaco di Comiso, poi come membro dell'Assemblea regionale siciliana. E anche in questa occasione, sottolinea il segretario cittadino, il PD di Comiso, dimostra di essere un partito serio e compatto, visto che non farà mancare il sostegno a Di Giacomo durante l'imminente campagna elettorale che ci porterà all'elezione di novembre e, come già fatto negli anni scorsi, anche durante il suo lavoro in Sena a Palazzo dei Normanni. Grazie a tutti.